La mezz'ora qua, la mezz'ora qua, la mezz'ora qua, ma è affatto danno? Meno male! Sabato 12 ottobre, sono le 19, piazza l'auto. Ma lui ha detto che non c'era un uccidivo. Accanto alla tatua di Dalì, omaggio al tessicole, cade una gigantesca pianta. C'è Sorrentino, da quanto tempo hai successo? Sono arrivato da mezz'ora e già era successo. Ma ha fatto danni? Fortunatamente no. Nessun ferito. Meno male, meno male. Andiamo in un'altra parte. Secondo me, sì. Signori, buonasera. Signor Singa, buonasera. Due parole per Positano News, giusto per tranquillizzare la nostra popolazione. Niente di grave. Niente di grave, meno male, come andate? Signor Raffaele, come si chiama questa pianta? Non lo so, appartiene alla collezione della serie di piante grassi. La pianta è granosa della specie, sappiamo. La pianta è una pianta molto bella, particolare. Ma dalle radici non si sta a essere a marcia. La scultura di Terzicore. Omaggio a Terzicore. La scultura di Terzicore. La scultura di Terzicore. Antonino, mi serve il nome di questa pianta? Non lo conosco, Lucio, forse un alore. Signor Raffaele. Signor Raffaele. Ah... Grazie.